Come liberarci dalla nostra dipendenza verso il gas russo senza farne portare il peso alle famiglie già gravate dalla crisi economica? Sta a noi, popolari europei, trovare il giusto equilibrio tra gli egoismi degli uni e gli estremismi degli altri. Forza Italia è stata fin dal suo ingresso una componente fondamentale della famiglia del PPE. Personalità come Antonio Tajani sono state e sono tutt'oggi un punto di riferimento non soltanto per il nostro partito, ma per tutti i cittadini europei che guardano a noi con speranza e fiducia. Sono assolutamente convinto che, grazie alla guida di Silvio Perusconi, Forza Italia continuerà ad essere la forza matrice di un'Italia e di un'Europa migliore, più competitiva e proiettata verso il futuro. Forza Italia è davvero. Come dice il titolo di questa convenzione, la forza che unisce. Buon lavoro a tutti.